Bella raga e oggi risponderò a ben tre persone che mi hanno chiesto se sarò al Lucca Comics and Games No, voi giustamente direte, ma stava a scriverlo su Instagram, giù, cioè non è che c'è bisogno di fare un video È che ho comprato il nuovo obiettivo, grand'angolo, così vedete di meno la mia faccia, ragazzi, lo faccio per voi Questi ultimi giorni non ho fatto video perché mi sono preso una piccola vacanzina In realtà sto preparando un video Dato che sta tornando Fortnite, dato che sta tornando COD La mia ultima storiella, ovvero la mia prima volta In questi giorni sono successe un po' di cose di cui volevo parlare Un po' di cose strane di cui parlare Però c'è una cosa che viene dal cuore, ragazzi, non potevo non parlarne Del problema di Lucca 2023 Perché non sapesse di cosa sto parlando, tranquilli, nemmeno io Però giorni fa mi trovavo appunto a scrollare TikTok Tra i video di cacche giganti, scorrendo, vedo un TikTok di Cristina Bertevello 5 motivi per non andare a Lucca Comics quest'anno Cos'è questa cosina interessante? Con il patrocino di... dell'ambasciata di Israele in Italia? In questo periodo storico? No, no, assolutamente no Questo è un motivo più che sufficiente per non andare a boicottare l'evento Se voi volete far parte di questo schifo Va bene, io no Io no E spero tanti come me non lo facciano Fa notare ai suoi follower il fatto che in un poster, in una locandina del Lucca Comics Ci fosse il patrocinio di Israele O meglio, il patrocinio dell'ambasciata israeliana in Italia Cioè che se anni fa mi aveste chiesto di mettere in una sola frase La Bertevello, Lucca Comics e Israele Non avrei saputo incastrarle Nel 2023, ragazzi, questo è possibile Non ci ho dato troppo peso Ho detto, vabbè, anche nei commenti dicevano Dai, Bertevello, sei zitta Vado quindi ad appisolarmi Sognando la merda sempre Il giorno dopo mi sveglio e vedo il caso mediatico del Lucca Comics and Games Zero Calcare ha espressamente detto che non andrà a Lucca Comics Privi appunto di questa locandina patrocinata dall'ambasciata di Israele Ah, mi sono detto, cazzo qua, la cosa è grave Cioè, o Zero Calcare si fa le seghe sulla Bertevello Oppure, effettivamente, c'è qualcosa sotto C'è qualcosa di cui dobbiamo interrogarci un po' tutti, no? Ah, innanzitutto mi sono andato a informare sulla parola patrocinio Perché, ammetto la mia ignoranza, non sapevo effettivamente cosa significasse Il patrocinio è il riconoscimento che l'amministrazione comunale concede ad associazioni e enti In relazione a specifiche iniziative e manifestazioni Di carattere culturale, sportivo, turistico e simili Alle quali viene riconosciuto un interesse per la comunità Senza nulla togliere, a Zero Calcare è la decisione che ha preso Che lo rispetto come fumettista Lo rispetto anche come uomo Quindi può fare la scelta che gli pare, ovviamente Anche senza dare spiegazioni Cioè, se avesse detto, ragazzi, non ci sarà Lucca Perché mi sono cacato nelle mutande Se è cacato, ragazzi, non è che possiamo obbligarlo È particolare, appunto, la scelta di non esserci Per via del patrocino dell'ambasciata di Israele Ho visto anche tanti utenti Nei commenti che si sono un po' uniti a questa causa Faccio una premessa Questo video è il mio pensiero Perché ogni tanto vedo nei commenti che c'è qualcuno Che si lamenta di quello che dico Però io ho il mio pensiero, tu hai il tuo Anzi, se avete un'opinione contraria alla mia Siete i benvenuti Ho visto anche nei gruppi di creator Che c'è stato un po' di scompiglio Perché la gente doveva quasi spiegare Il motivo per cui ci saranno o non ci saranno a Lucca Legata alla questione Israele-Palestina Che, ripeto, è proprio strano unirle due cose Però va bene Io penso che sia importantissimo avere un'opinione Su quello che sta succedendo in Palestina, ovviamente Ma penso anche che le due cose Non debbano in qualche modo scontrarsi Cioè, se io sono pro-Israele o pro-Palestina Questo non deve centrare con la mia partecipazione A una fiera italiana del fumetto Come mio padre quando non andava a fare la spesa all'esse lunga Ma preferiva andare alla Coop Non so chi di voi conosce la storia Però in poche parole Bolognese Doc è socio Coop Perché Coop sei tu Infatti i miei genitori si sono lasciati per due motivi Il primo è colpa mia E perché mia madre ha iniziato a fare la spesa all'esse lunga Tra i due litiganti il Penny gode Se pensate che la Lidl sia per poveri Ecco, il Penny è tipo per gli ultimi della catena alimentare Saluto al Penny che mi ha sfamato per gli ultimi tre anni Basta un Penny È giusto farsi un'opinione politica Morale, etica, no? Su quello che ci circonda Però allo stesso tempo non possiamo smettere di vivere O decidere di non andare a una fiera del fumetto Lo dico semplicemente perché se si fa questa distinzione Allora dovremmo interrogarci su tutto ciò che ci circonda Non solo sulle cose che sono palesi Perché ok, noi leggiamo sulla locandina Il patrocinio dell'ambasciata di Israele Però chissà quante cose avvengono senza che non lo sappiamo Il proprietario di Pringles magari picchia sua moglie fino alla morte Cioè Però la mia scelta di mangiare o non mangiare Pringles Non dipende da quello che fa il proprietario di Pringles nella sua vita privata Cioè su questo in realtà Io su questo mi sono sempre interrogato e mi interrogo tuttora Ci sono due tipi di persone Ci sono quelle come me che riescono a distinguere il personaggio dal prodotto E c'è chi invece giudica queste due cose in modo molto similare Ad esempio Young Melly che ha fatto la canzone Murder on my mind Per quanto lui sia un idiota Però è una bella canzone e quindi me l'ascolto volentieri Io non so voi raga però Tranquillamente nel mio gruppo di conoscenze e di amici Ci sono persone di sinistra, di destra, di estrema sinistra, di estrema destra Ma nessun gay che io sappia Quindi a mio avviso non dovete sentirvi in obbligo Se siete pro palestino o pro israele Andateci lo stesso a Luca Comics Non state finanziando dei bombardamenti su Gaza ovviamente Anzi mi ha fatto abbastanza ridere che sul sito ufficiale Del Luca Siano state scritte delle scuse tra virgolette O comunque delle spiegazioni Per far capire al pubblico che il Luca Comics è una cosa distinta dalla guerra Anzi è un posto dove potersi riunire Andando o non andando a Luca Comics Non cambierà nulla ovviamente in Palestina Però qui in Italia qualcosa è cambiato Ovvero ci sarà Salvi Quell'uomo non puoi odiarlo Non puoi neanche amarlo Però non puoi odiarlo Cioè ovunque veda uno spiraglio di occasione Però lui ci si butta eh Chissà che cosplay farà Ce lo vedo bene da Pip Occhio Salvini è quel tipo di bambino che faceva il bis della zuppa imperiale Salvini è quel tipo di persona che si indispettisce per la troppa fila Al firmacopio di Ciccio Game Vorrei andarci solo per questo Cioè vorrei vederlo Salvini a Luca Comics Che gira si guarda attorno Ma chi è sta finocchiata Finchia lì che si fa i selfie con le cosplayer di Catarina Nello spiegare la propria partecipazione o meno all'evento Tanti creator ho visto in privato almeno Il malcontento ho visto che è girato appunto Soprattutto quelli che hanno sempre tenuto la politica lontanissima dai propri canali Che in Italia è anche giusto in realtà Perché raga letteralmente a me gente ha smesso di seguire Perché mi sono sverginato Quindi posso capire un creator che non voglia dire se ha ideologie di destra o di sinistra È sempre meglio non schierarsi mai sui social ok? Però a Zero Calcare gli do una stellina Un piccolo premio Ovvero il fatto di aver avuto il coraggio di fare una scelta Coerente poi con il suo pensiero E di esprimerla Io personalmente non vado a Luca Comics Perché ragazzi ai nerd puzzano Poi lì tutti appiccicati che fanno la fila per farsi fare la firma da Sabaku Arrivano lì Giumu posso abbracciarti? Certo certo Tumbo ti stimo tanto sei il mio youtuber preferito Si scherza io mi trovo a mio agio Anzi faccio anche i raduni per questo Solo per sentire il vostro sudore L'opinione di Zero Calcare rispettabilissima La scelta invece un po' meno secondo me L'avrei gestita in altro modo se fossi stato in lui Ovviamente questo deriva un po' da come sono fatto io Dalle mie esperienze no? Dal mio vissuto Metti caso che io sia un ebreo Che vive nella Germania nazista ok? Il naso c'è I soldi no Nella mia bottega arriva questo signore Con il capello un po' laccato Il baffettino E mi chiede un paio di scarpe no? Cazzo io non solo non mi rifiuto di fargli le scarpe ok? Ma gli faccio le cazzo di scarpe più belle che lui abbia mai visto Cazzomerà talmente tanto le mie scarpe Che le indosserà persino quando andrà a dormire Inizierà a fare jogging con le mie scarpe Da quanto saranno comode e traspiranti Sarò il calzolaio più bravo e più forte che abbia mai visto E quando qualcuno gli chiederà Adolfo scusa Belle quelle scarpe Chi te le ha fatte? Lui dovrà rispondere Giumbo L'ebreo Quindi non so se è troppo tardi Non so se Zero Calcare questo video lo vedrà mai Ma non penso Però cazzo vacci al lucca Vaci con una cazzo di bandiera palestinese gigante Itta il gridi davanti a Salvini Non lo so se pensi che quella scritta israele sulla locandina Sia un vero problema Combattila Vabbè Tra Rondo e Shiva Chi dei due è la palestina e chi israele secondo voi Quindi sì perché non andrò a Luca Comics and Games quest'anno Non c'ho voglia Col freddo c'ho lo stomaco un po' A parte che settimana scorsa c'ho avuto pure le raga di Anani Poi c'ho 30 anni Cioè non è che vado a una fiera di ragazzini Non mica sono favorini Comunque free palestina Cioè non è che vado a una fiera di ragazzini